A poco più di due settimane dall'inizio dell'anno scolastico l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti fa il punto sull'andamento della situazione. Tenete presente che su 25-27 mila corse che ci sono in tutto il Veneto quotidianamente, a parte qualche criticità che si manifesta a causa magari di incomprensioni tra le aziende di trasporto, i dirigenti scolastici o uscite anticipate degli studenti, perché l'orario non è ancora definitivo, complessivamente mi sento di dare un giudizio positivo. La regione, tra l'altro come era stato preannunciato, accoglie anche le varie richieste e segnalazioni da parte di chi sui mezzi di trasporto sale ogni giorno e quindi tocca con mano eventuali criticità. Mano a mano che arrivano le segnalazioni di genitori e studenti che segnalano criticità, prontamente noi giriamo le aziende di trasporto, so che le aziende di trasporto stanno anche intervenendo, quindi siamo riusciti a far fronte in maniera egregia alla riapertura delle scuole a febbraio con il 50% della capienza. L'80% della capienza sicuramente aiuta di più perché comunque il numero degli autobus necessari è inferiore, dobbiamo però tenere presente che l'80% della capienza è un autobus pieno, questo non ce lo possiamo negare. Se tutto dovesse proseguire in questo modo, spiega De Berti, non saranno necessari ulteriori cambiamenti. Andiamo avanti così, in questo modo, così come stiamo andando, il coordinamento rimane comunque in capo alla prefettura perché vi ricordo che col DPCM del 3 dicembre dell'anno scorso è stato tolto il coordinamento alle regioni, però noi collaboriamo in maniera fattiva con i prefetti e andiamo avanti. Non credo che la capienza verrà toccata, rimarrà sicuramente, salvo peggioramenti della situazione che mi auguro non ci saranno, fino alla fine dell'anno scolastico quello che adesso è l'obiettivo è mantenere la didattica in presenza per tutti gli studenti. Grazie.